Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove siamo nella stanza di cittadino, ci sono anche dei taschi di persone, è una brutta persona ragazzi, se muoio è finito, è stato bello conoscerlo, è stato bello, è bianco, lui è Gabri, Gabri non fare la linguazza, dai Gabri, siamo in mezzo al traffico, vai! Siamo stati dal dentista, e Gabri ha fatto, non so spiegarlo, Gabri che ti prende, è emozionato di partecipare a un mio video, Gabri iscriviti al canale, ok? Ragazzi, Gabri vuole finire il video, quindi vabbè, non devo fare il saluto di Lion, stavo per dire, ancora una volta, ciao ragazzi, vabbè, al prossimo video!